Questa pineta non è morta, non va squalificata da riserva, c'è la possibilità di riportarla non come era prima, ma anche meglio, se verrà gestita come una riserva. Un messaggio forte e chiaro, quello lanciato da Giovanni Damiani, biologo e consigliere nazionale d'Italia Nostra. Damiani ieri ha partecipato ad una videoconferenza con diversi docenti universitari ed esperti, tra i quali il generale Silvano Landi, il padre della lotta agli incendi boschivi in Italia. Tutti hanno dato ampia disponibilità ad aiutare con le loro competenze l'amministrazione comunale di Pescara. Il danno causato dagli incendi alla pineta è stato gravissimo e allora cosa fare da qui in avanti? È successo che molti pini che oggi sono bruciacchiati con ogni probabilità riprenderanno. È successo però che quelli che sono morti hanno una grossa capacità di rigenerazione, perché il pino d'Aleppo ha le pigne, lo strobilo, estremamente cementato, ma ha un adattamento per difendersi dal fuoco. Nel momento in cui arriva il fuoco queste pigne si aprono e i semi che schizzano a terra produrranno, senza ombra di dubbio, già dal primo anno tantissime nuove piantine, ma anche il resto della vegetazione mediterranea ha forte capacità di ripresa. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna adesso chiudere e attendere, aspettare le piogge autunnali e già noi potremmo fare in novembre una prima diagnosi precisa, scientifica e potremmo fare una diagnosi più approfondita a primavera. Chiaramente per i pini morti bisogna aspettare almeno 25 anni perché ritornino a dimensioni molto grandi, già godremo sicuramente dopo 20 anni dei pini di certe dimensioni, ma già dopo 25 anni a 30 anni ritroveremo dei pini adulti. Se lei dovesse dare un consiglio sulla prevenzione, che cosa si può fare per cercare magari di non vedere più quanto accaduto domenica scorsa? Io direi fondamentalmente due cose. La prima è quella di dotare l'intera pineta di bocchette antincendio perché abbiamo visto che quello per esempio in area privata dove stanno le suore, prese da cittadini, volontari, eroici, ha dato i miracoli. Ma il secondo punto più importante è la adozione. La città deve adottare questa pineta. Guardi che in Emilia Romagna ci sono ben 15 mila persone volontarie addestrate con mezzi forniti dal comune e dalla regione che fanno H24 anche di notte i turni per l'avvistamento precoce degli incendi. Perché in Emilia Romagna non ci stanno incendi? Perché vengono individuati immediatamente e hanno la capacità immediata di intervenire. Il codice di protezione civile del 2020... E sulla vicenda ieri in Senato è intervenuto anche Luciano D'Alfonso richiamando le attenzioni delle istituzioni affinché si attivino tutte le procedure per il riconoscimento dell'emergenza nazionale. Inoltre, ha concluso D'Alfonso, c'è bisogno di fare anche di più ad opera della cittadinanza e di tutti coloro i quali hanno molto anche sul piano della ricchezza.